Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il rapper Fedez è finito nuovamente al centro dell'attenzione mediatica, questa volta per una performance disastrosa durante un concerto al Festival Agroalimentare Amun a Torrenova in Sicilia. A causa di problemi tecnici legati all'autotune, la sua esibizione della canzone estiva Sexy Shop con Amy Schilla è stata completamente stonata, diventando virale sui social media. Le critiche non sono tardate ad arrivare, con la cantante Dora Lee Marci, eliminata da Fedez durante le selezioni di X-Factor nel 2017, che ha condiviso un video su TikTok esprimendo il suo disappunto. Dora ha rimarcato la sua delusione per l'esibizione del rapper e ha criticato aspramente le sue competenze musicali, sottolineando che Fedez non possiede alcuna abilità canora. Dora ha anche ricordato il momento in cui è stata esclusa da X-Factor, sottolineando i sacrifici e le difficoltà che gli artisti devono affrontare per raggiungere i propri sogni. Ha accusato Fedez di avere stromesso talenti genuini a favore di una carriera costruita sulle spalle degli altri. Il video di Dora ha suscitato un grande interesse sul web, con migliaia di condivisioni e commenti. Al momento Fedez non ha risposto alle critiche, ma è probabile che presto si esprimerà in merito. Resta da vedere come reagirà il rapper di fronte alle accuse di Dora Lee Marci e se questo episodio avrà conseguenze.